Ho espresso un concetto in maniera sbagliata, nella circostanza sbagliata, però io in quel momento sentivo che dentro Milano qualcosa stesse cambiando, c'erano fumogeni, c'era un bordello della misera a Milano. In quel momento sembrava veramente che stesse succedendo qualcosa, però io di fatto non ho partecipato a nulla, non ho distrutto le macchine di nessuno, non ho fatto nulla. Io in quel momento ho sentito tante emozioni dentro di me e in questo momento vi sto descrivendo queste emozioni. Io dico soltanto che ero un cittadino normale e in quel momento pensavo che i cittadini normali stessero protestando e mi sono sentito vicino a questa protesta, non sapevo di altri gruppi, non sapevo di macchine incendiate, non sapevo di nulla, vedevo gente che scriveva sui muri, gente che ha distrutto gli allarmi, gente per strada che urlava, un casino incredibile e mi sono fatto prendere a questa cosa, anche se di fatto non ho fatto niente. A mente lucida è giusto giustificare la violenza oppure chiedo scusa per quello che ho detto io? No, io chiedo scusa a tutti perché ho usato un linguaggio sbagliato per spiegare un'emozione che stavo provando in quel momento e mi scuso con tutti assolutamente e io non andrei mai a distruggere la macchina di altri privati cittadini che pagano le tasse come i miei genitori. Ma i tuoi genitori ti hanno visto in tv? Che ti hanno detto? Eh, i miei genitori ci hanno visto. Hai girato un ceffono o te hanno detto? No, mio padre si è incazzato di brutto, è incazzato ancora adesso, lo stesso mia madre, lo stesso tutta la mia famiglia e io so di aver dato un segnale sbagliato. Poi ci sono già detto che è scattata la satira su di te con le pagine facebook. No, mi ha fatto bene perché mi sono comportato come un coglione, ho usato il linguaggio, cioè in quel momento ho instigato la violenza quando io non sono una persona violenta e ho espresso male la mia emozione anche però in quel momento di essere dentro qualcosa di grande, non avevo mai visto così tanta gente a Milano, ripeto. Boh, ma io ero in questa manifestazione per puro caso, cioè un amico mi ha chiamato il pomeriggio, mi fa andiamo in questa manifestazione così, eravamo andati a frongio a Milano e poi sono andati in manifestazione. C'era un modo per passare il pomeriggio? Boh, se io... Ti interessa davvero il no ex? No, manifestazione io non ci sono stato, cioè ci sono stato due o tre volte nella mia vita. Il no expo, io l'expo andrò a vederlo con la mia scuola perché io sono ancora uno studente purtroppo e l'expo andrò a vederlo con la mia scuola e boh, vedrò lì com'è, non ho un sentimento distruttivo nei confronti dell'expo. Io non sono dentro il no expo, non sono dentro questa protesta, io ho un'idea normale come c'è ogni persona e in quel momento sono stato preso dai fatti, dagli eventi e basta, in quel momento è resaltato. Mi dispiace, mi dispiace che... Hai pensato che potresti offrirti per dare una mano a pulire magari? Certo, io anzi grazie per avermi detto io darò una mano a pulire anche se non ho sporcato nulla perché voglio dimostrare che boh, è stato un momento di emozioni e poi io ho sempre trattato bene tutto, ho sempre anche fatto volontariato, non sono una persona cattiva nel senso... quindi boh, aiuterò anche a mettere a posto la città che ha subito questa cosa, che dopo ho visto anche i telegiornali, ho visto le macchine incendiate, ho visto tutto e ho pensato che... boh, cioè non pensavo che... non avevo capito che c'era così tanta violenza. Basta manifestazioni per adesso e per un bel po' di tempo penso a questo punto, con tutto il disastro che sono stato in grado di fare in giro, quindi con tutto il casino che è successo, sono dimesso la mia persona e boh, non lo so, basta.